Ha scatenato polemiche a Ravenna il boom di iscrizioni al liceo scientifico Riani. Trovandosi davanti a 50 richieste in più rispetto allo scorso anno e non avendo spazio a sufficienza, problema che però è in via di risoluzione, il preside Gianluca Dradi, come da indicazione ministeriale, ha dovuto ipotizzare un criterio di accettazione delle domande che ha fatto discutere, quello della media dei voti nella pagella del primo quadrimestre della terza media, criterio che tra l'altro veniva già utilizzato negli anni scorsi per l'indirizzo sportivo, del quale ogni anno può essere attivata una sola prima. Le scuole devono avere deliberato, nel Consiglio d'Istituto, dei criteri per stabilire come accogliere le domande, quante domande accogliere rispetto a quelle in eccedenza e con quali criteri. Noi abbiamo individuato questo, cioè quello del merito scolastico desunto dalla pagella del primo trimestre o quadrimestre delle scuole medie, non per un'idea di una scuola che non può essere affrontata da qualunque studente, ma semplicemente perché pur con la sua imperfezione, in qualche modo testimonia l'impegno che lo studente mette nello studio. E siccome questo è un percorso di studi impegnativo e nella nostra esperienza abbiamo visto che i casi di insuccesso scolastico si concentrano sui ragazzini che vengono dalle medie con voti molto bassi, tipo 6 o 7, abbiamo dato questa indicazione ma per prevenire l'insuccesso scolastico. Grazie.